Benvenuti al convento di Nevria Barriano, un convento del 1480 che sorge su mura romana e con reperti romani. Potrei parlarvi di duemila anni di storia o di ogni piccolo angolo di questo luogo. Nello stesso giorno lo stesso luogo si può trasformare in luoghi diversi, ma quando organizziamo un matrimonio ci teniamo a prenderci cura degli sposi, a cominciare dall'ascolto delle esigenze di ogni coppia. Per questo trattiamo un solo matrimonio al giorno. Prevediamo sempre la migliore accoglienza. Abbiamo locali coperti e climatizzati, non vi dovete preoccupare se ci fosse la giornata di sole o di pioggia. Cari futuri sposi, quindi vi aspetto al convento di Nevria Barriano.